Nell'ultima seduta del Consiglio Comunale del 23 ottobre, l'assessore Tosi ha parlato della nuova piscina comunale, in risposta ad un'interrogazione del Movimento 5 Stelle. La replica del Movimento 5 Stelle si è limitata ad una lamentela per il ritardo della risposta, ma l'assessore Tosi si poteva, e si doveva, dire qualcosa di più. Perché l'assessore, nel pieno della campagna elettorale per le comunali, davanti al folto pubblico della festa di partito a Santa Croce, come spiega la Gazzetta di Modena del 5 maggio, durante l'incontro intitolato Superare il caso Amianto, progetto per l'acqua, a una domanda di due del Movimento, che chiedevano perché non vengano usati i 9 milioni di euro stanziati per la piscina per cambiare le tubature dell'acquedotto in Amianto, rispose, aperte virgolette, la piscina è in project financing, pertanto non comporterà alcun esborso da parte del Comune. Quindi i cittadini di Carpi non pagano niente per la piscina. Sbagliato, i cittadini di Carpi pagano tutto. L'assessore Tosi ha potuto nascondere la verità in quella circostanza, sfruttando un equivoco che si è costruito nel tempo attorno a questo anglicismo, project financing. Ma cos'è il project financing? C'è una bella definizione tra le note della voce project financing o finanza di progetto in italiano di Wikipedia. Nel 1999 è stata istituita nel Ministero dell'Economia l'Unità Operativa Italiana per la Finanza di Progetto, denominata Unità Tecnica Finanza di Progetto. Nelle note c'è il link al manuale dell'Unità Tecnica Finanza di Progetto che spiega cos'è il project financing. È un testo del 2007 in cui a pagina 19 si legge che per project financing si intende il finanziamento di un progetto in grado di generare, nella fase di gestione, flussi di cassa sufficienti a rimborsare il debito contratto per la sua realizzazione e remunerare il capitale di rischio. Nell'ordinamento giuridico italiano la concessione di costruzione e gestione costituisce uno dei possibili strumenti per finanziare opere pubbliche in project financing. Quindi tutte le volte che si usa questo termine project financing si lascia intendere che l'investimento per l'opera, in questo caso la piscina di Carpi, verrà ripagato nel tempo grazie agli incassi derivanti della gestione. Sarà davvero così anche per la piscina di Carpi? No. Sul punto è stata fatta parecchia confusione finora. Ecco qualche esempio di come si è parlato nel tempo in Consiglio Comunale e sulla stampa del project financing relativamente alla piscina. Elezioni comunali 2009. Campedelli, project financing per piscina e nuovo palazzetto. Puntare sul project financing per portare finalmente a termine la tanto sospirata nuova piscina comunale. Un progetto che dovrà essere rafforzato al coinvolgimento di soggetti privati nell'ottica del project financing, indispensabile per realizzare un'opera di tali dimensioni. Quindi project financing, grazie all'investimento dei privati. 14 ottobre 2010. Ad un'interrogazione in Consiglio che chiedeva quanti soldi erano stati spesi fino ad allora per il progetto e se questi, in previsione del project financing promesso dal sindaco, fossero stati spesi inutilmente, l'assessore d'Addese risponde che i costi di progettazione ammontavano all'epoca 682.000 erotti euro più IVA e che non si trattava di un project financing ma di una concessione di costruzione e gestione. Quindi non è project financing. 16 dicembre 2010. In Consiglio Comunale si decide per lo scioglimento anticipato della società patrimonio Città di Carpi SRL, a totale capitale pubblico e il cui obiettivo principale era quello di costruire la piscina. L'incaricata del Comune Romana Mattiori spiega che la patrimonio Città di Carpi SRL non ha più motivo di esistere per attività come queste. Il Comune darà il contributo per la piscina ma in indebitamento sarà a carico di chi vincerà la gara per la costruzione e gestione della stessa. Quindi diamo solo un contributo, non è specificato a che titolo, ma il rischio di impresa se lo accolgono i privati. Come a dire, è un project financing. 4 febbraio 2011. Sul settimanale del tempo, l'assessore d'Addesi ribadisce che non sarà un project financing, bensì una concessione di costruzione e gestione, che presuppone che l'amministrazione stessa metta a base di gara un progetto da lei fornito, stabilendo così regole e parametri da rispettare. 30 settembre 2011. Lorenzo Paluan, all'epoca consigliere del Movimento 5 Stelle, sul suo blog scrive «Nove mesi fa il piano polinare degli investimenti alla riga Rifaccimento Piscina Onore Campedelli recitava «Risorse interne zero per il 2011, 2012 e 2013». Ieri sera, dopo nove mesi di gestazione, nasce il bimbo di una variante di bilancio che ci dice che la piscina ci costerà circa 700 mila euro l'anno per i prossimi cinque anni. Miracoli del passaggio dal project financing alla costruzione e gestione in affidamento, ha spiegato il sindaco in consiglio. Quindi, non è un project financing, è il contributo del comune di qualche milione. Ma più avanti rispunta al termine project financing. 13 aprile 2012. Il tempo. A proposito di Unieco, che assieme a CMB e Copernuoto ha presentato l'unica offerta al bando di gara per la piscina, dice che «Vanta un'esperienza ragualdevole nel settore. Di recente ha realizzato in project financing la piscina di Parma, Reggio Emilia, Rubiera e Collecchio». E sempre nel 2012, il 27 aprile, il settimanale Voce scrive «Ma che c'entra scazza con il project financing del futuro impianto natatorio?» E ancora «Il comune non è insensibile alla questione e non volendo certo lasciarsi scappare l'unica impresa disposta a farsi coinvolgere nel project financing, si era almeno in parte tutelato». In rete ho trovato una presentazione di Unieco di marzo 2013 dal titolo «Presente e prospettive future del project financing e del partenariato pubblico privato in Emilia-Romagna», che spiega l'esperienza ragguardevole del settore di qui sopra in questi termini. «Esperienze di prima generazione nel project financing. Con poca esperienza nostra ed altrui, flussi di cassa non sufficientemente certi, percentuali esigue la società di progetto da parte dei partner gestionali, cui segue la fase della maturazione del project financing con riequilibrio dei progetti in essere e acquisizione di nuovi progetti più equilibrati, e che culmina con la terza fase, uguale spingere sull'acceleratore, caratterizzata da riequilibrio raggiunto, nuovi progetti con basi solide, gestione virtuosa, obiettivo di nuove acquisizioni e nuovi impegni». Segue nella presentazione il nuovo progetto della piscina di Carpi, messo lì probabilmente come esempio di questa terza fase del project financing, ovvero quella caratterizzata da nuovi progetti con basi solide. E sulla solidità delle basi del progetto di Carpi ci sono pochi dubbi, stando a quanto scritto. Infatti si legge subito dopo «investimento 8,6 milioni di euro, durata concessione 30 anni, contributo pubblico 9,2 milioni di euro più 100 mila euro all'anno, finanziamento bancario 5,9 milioni». Quindi pare di capire che la terza fase del project financing per un IECO, ammesso che di project financing si tratti, sia quella in cui il rischio di impresa è completamente garantito dal contributo pubblico. E veniamo al 2014. Come visto, a maggio di quest'anno Tosi diceva che la piscina è in project financing, pertanto senza sborso del Comune. E ancora in un articolo del 9 settembre, sempre della Gazzetta, il sindaco Bellelli parla di un investimento da 9 milioni, ma senza precisare a carico di chi, e poi l'articolo continua così «la gestione avverrà in project financing, ovvero tramite un investimento da parte dei privati che sarà coperto in parte ai proventi della gestione e in parte ai contributi pubblici finanziati dal Comune. Si tratta di un progetto da 9 milioni di investimento complessivo, prosegue Andreoli, ingegnere della CMB, in parte li anticipiamo con nostri mezzi, in parte tramite finanziamenti bancari». Anche qui, quanta prudenza nell'usare parole da parte di chi dovrebbe aiutarci a capire, ma che in realtà quando parla non spiega un bel niente. L'assessore Tosi, rispondendo all'interrogazione del Movimento 5 Stelle, che chiedeva esplicitamente chi paga, il 23 ottobre ha finalmente spiegato con un linguaggio tecnico che l'opera è realizzata in concessione di costruzione e gestione con un contributo in conto prezzo a favore del concessionario di Euro 1 milione e quasi 800 mila più IVA all'avvenuta emissione di stati di avanzamento lavori per importo non inferiore a Euro 3 milioni oltre IVA, Euro 1 milione quasi 400 mila più IVA entro 75 giorni dalla messa in esercizio dell'impianto, Euro 5 milioni e 994 mila più IVA in 12 rate annuali. Il totale fa 9 milioni e 190 mila e 800 euro. Per sgombrare il campo da ogni equivoco, il 20 ottobre, quindi prima della risposta in consiglio dell'assessore Tosi, ho scritto un'email con allegato il contratto della piscina e copia dell'articolo in cui Tosi dichiarava che non ci sarebbe stato esborso per il Comune a Ivan Cicconi, direttore dell'associazione Itaca, istituto per la trasparenza degli appalti e la compatibilità ambientale, che avevo sentito parlare ad un'interessante conferenza sul project financing della Cispadana nel 2012 a Novi. Questa la sua risposta. Leggo l'articolo. Tosi ha risposto «La piscina è in project financing, pertanto non comporterà alcun esborso da parte del Comune. Sei legittimato a dire pubblicamente che il signor Tosi ha mentito in modo spudorato. Il Comune, come da contratto, si è impegnato a pagare un prezzo pari a 9.190.800, 3.196.800 per stati di avanzamento e 5.994.000 in 12 rate annuali dall'avvio dell'esercizio, a fronte di un costo di lavori di 7.916.150 euro. Non solo. Il Comune è pure impegnato a sostenere la gestione con il pagamento di 99.900 euro annuo per tutta la durata della concessione e, come se non bastasse, si è impegnato pure a pagare l'affitto di 20.000 euro l'anno, con rate semestrali anticipate e rivalutate con indice Istat, per gli uffici adibiti a Medicina dello Sport. Una cuccagna per il concessionario, un brutto affare per il Comune. Saluti, Ivan Cicconi. E se non bastasse, per essere ancora più chiari, nell'articolo 7 del contratto, alla voce Equilibrio economico-finanziario, è scritto Il concessionario dichiara di essere a conoscenza che il piano economico-finanziario di Massima che accompagna il progetto definitivo è stato sviluppato al solo scopo di dimostrare la sostenibilità economica della gestione del complesso, essendo i costi di realizzazione dell'opera in gran parte a carico del concedente, ovvero il Comune. Quindi, project financing a parte, chiarito oltre ogni ragionevole dubbio che la nuova piscina di Carpi la stanno pagando e la pagheranno tutti i cittadini di Carpi, i quali molto probabilmente ne sono ancora in larga parte all'oscuro, non resta che farsi qualche domanda. Ma se in definitiva paga il Comune, ha avuto senso di smettere la società patrimoniale di Carpi? Se si valuta che il bacino di utenza comprenderà tutti i comuni delle terre d'argine e oltre, tant'è che sono previsti corsi di nuoto per le scuole dell'Unione, non si poteva chiedere un contributo alle spese anche da parte degli altri comuni delle terre d'argine? E soprattutto, si tratta in definitiva di un buon investimento? Secondo l'amministrazione sì, che sempre per bocca di Tosi dichiara, dopo più di vent'anni di discussioni e progetti, finalmente la nostra città si doterà di una moderna piscina che per dimensioni, vasche, aree di pertinenza, non ha paragoni di certo in ambito provinciale, se non addirittura regionale. Ecco, a me personalmente qualche dubbio è venuto, dopo aver visto una puntata di report in cui si parlava di impianti natatori in questi termini. Ho incontrato qualche giorno fa Marco Tornatore, la persona che avete visto intervistata da Report, ed ho raccolto la sua testimonianza in un video che potete vedere cliccando qui sulla miniatura oppure nel link che trovate in descrizione. Dice delle cose molto interessanti, alcune delle quali potrebbero tornare buone pure per la nostra nuova piscina. Chiudo mostrando un articolo, anche questo del 9 settembre 2014, stavolta però sul project financing per il nuovo palazzetto dello sport. Titolo, l'assessore Tosi è nel 2016 il nuovo palazzetto dello sport. La costruzione del nuovo impianto natatorio è legata alla realizzazione di un investimento da 6 milioni di euro sulle scenerie dell'attuale piscina. Il 2016 sarà l'anno del nuovo palazzetto dello sport, che si propone diventare punto di riferimento per le squadre che militano la massima serie di pallavolo e pallamano. Un pool di imprenditori è favorevole alla creazione dell'infrastruttura. L'opera sarebbe da costruire in project financing e il rimborso del finanziamento sarebbe garantito dall'entrata di gestione. Ora, visto il precedente con la piscina e visto che anche stavolta ci troviamo in piena campagna elettorale per le regionali, direi che sul palazzetto dello sport forse è il caso di stare in campana. Che dite?